Posso farci un videomontaggio sullo scontro con le carpe? ...con un team proveniente dai peggiori incubi di tutti gli allenatori, un team che potrebbe far paura anche alla paura stessa. Sarai capace di batterlo? No! Che cos'è questo? Non so come reagire... ...carpa tosta, carpa speciale... ...non...non so...non lo so come reagire, ragazzi... NANI?! Magikarp può imparare Bora, scusatemi... Oh, non ti devo sottovalutare! Cioè, se ti sottovaluto muoio, ragazzi! No, ragazzi, ma... ...lo l'ho sottovalutato e... ...è andata male! Ah! Allora non ti devo sottovalutare... ...non ci credo! Ma che cazzo?! Ragazzi, cos'è sta roba?! Ragazzi, cos'è sta roba?! Ma che cazzo, di che cazzo stiamo parlando?! Tutte le carpe sono in grado di distorcere il tempo e lo spazio in modo da creare bore, tutti lo sanno! Non ho capito! Hackmon! Sì, questo è hacking, ragazzi! Ragazzi, qui stiamo hackando fortissimo! Carpa Gennaro! Questo è il Dream Team che ci meritiamo! Non metti in mossa abilità che vuoi a qualsiasi Pokémon! Ah, non lo sapevo neanche sta cosa, in realtà! Carpa volante, carpa tosta... Ma io non ci credo! Che cazzo d'attacco è quello?! Ne mancano solo due! Ah! Vediamo un po'! Perché poi ho un bidello?! Mi chiedevo cosa c'entrassi un bidello con i Magikarp! Carpa belle e carpa muscolo! Io ti ho sottovalutato e adesso niente! Io vado giù proprio di sfondamento, incazzata, sono incazzata! Il Team è perfetto insieme a bidello! Nessuna Carpa Diem, sono offesa! Vale! E intanto, carpa muscolo sta ammazzando tutto! Ale! Muoio! GG!